Prio piano la pagina legata all'emergenza Covid, si è notato proprio negli ultimi giorni dai report una crescita dei contagi in particolare in un'area dell'Abruzzo, una serie di piccoli focolai che sono a macchia di leopardo ma in Valle Peligna ci sono anche dei ricoveri in numero significativo e situazioni da tenere sotto controllo e monitorare come quella di una casa di riposo. Allora per saperne di più abbiamo sul posto la nostra inviata Anna Di Giorgio, al suo fianco il nuovo sindaco di Sulmona Di Piero. Allora com'è la situazione Anna? Aggiornaci sulle ultimissime da Sulmona dandoci anche un po' il quadro della situazione. Sì Carmine buongiorno a te e ai nostri telespettatori, hai riepilogato bene tu un po' il senso anche della nostra venuta qui a Sulmona accanto a me il sindaco Zanfranco Di Piero, con lui vorremmo proprio fare il punto della situazione su quanto sta accadendo nella parte insomma centrale d'Abruzzo, la Valle Peligna, territorio particolarmente tenuto sotto controllo in questo momento a causa di un aumento insomma dei contagi, un aumento che per la verità ci ha portato a parlare proprio in generale di quanto il virus continui ancora a circolare, non soltanto qui, un po' ovunque in Abruzzo, in Italia, nel resto del mondo, ma adesso noi ci concentriamo proprio su questa zona perché è quella che è maggiormente attenzionata a causa dei numeri che sono un po' in crescita. Allora sindaco Di Piero, qual è la situazione? Si era parlato di contagi anche tra sanitari, alcune classi, alcune scuole di Sulmona in quarantena, un centro per anziani, insomma una casa di riposo che è tuttora sotto controllo, sorvegliata speciale, insomma quali sono i dati in suo possesso? I dati in mio possesso sono questi, alla giornata odierna ci sono 165 positivi, a Sulmona se ne sono registrati nella giornata di oggi un ulteriore incremento di 23 casi, molti dei quali, gran parte dei quali però sono riferiti alla struttura di ricovero per anziani cui lei faceva riferimento. In generale bisogna dire questo che nel territorio di riferimento della ASL e soprattutto nella nostra città si è registrato un incremento notevole di casi di positività intorno alla metà di ottobre, lì c'è stata definita un'esplosione di casi proprio per significare la consistenza numerica particolarmente significativa dell'incremento. Da quella fase però bisogna dire che sono state poste in isolamento le persone interessate e i casi di positività ulteriori che sono stati accertati sono sempre compresi nel novero di persone in isolamento. Questo ci consente di dire che la fase sarebbe in regressione, uso il condizionale, sarebbe in regressione, fatto salvo il caso della struttura per anziani, a cui lei ha già fatto riferimento, dove si è manifestato un focolaio ad hoc. Però anche lì le autorità sanitarie mi dicono che si tratta di un fenomeno circoscritto all'interno della casa di riposo, della struttura per anziani. Quindi la situazione è sempre sotto costante monitoraggio da parte degli organi sanitari. Faccio un esempio, oggi sono stati eseguiti a Sulmona nel drive-in istituito dalla ASL ben 400 tamponi, il che significa che c'è un raggio molto ampio di contatti e di persone in sorveglianza che vengono comunque costantemente monitorati. Se dovessimo attenerci a condizionare si potrebbe parlare comunque di una situazione che almeno apparentemente sta regredendo. Certo che si tratta sempre di una situazione di allerta, di una situazione delicata, di una situazione che necessita del costante monitoraggio che effettivamente viene portato avanti dagli organi sanitari. Chiaramente quindi non possiamo abbassare la guardia. Qualcuno nei giorni scorsi aveva anche fatto riferimento a una possibile causa dell'aumento dei contagi individuata nelle elezioni. Alcuni comuni che sono stati chiamati proprio al voto recentemente hanno infatti registrato un aumento dei contagi. Qui a Sulmona si è votato, potrebbe anche essere questa una causa? Io facendo una valutazione meramente empirica in qualche modo ho ricondotto questo anche alle elezioni perché è successo a Sulmona, è successo a Roseto, è successo a Vasto, è successo nei comuni che sono andati di recente alle consultazioni elettorali. Però ripeto, siamo adesso in una fase di controllo e aspettiamo l'evoluzione della vicenda. Il Sindaco potrebbe eventualmente, qualora la situazione dovesse degenerare, emettere, emanare particolari ordinanze per cercare di invitare i cittadini ad un'ulteriore riguardo, ad un'ulteriore prudenza. Cosa si potrebbe fare in tal senso se i casi dovessero continuare ad aumentare? A riguardo i provvedimenti restrittivi devo precisare che si fa riferimento per l'adozione di questi provvedimenti al tasso di ospedalizzazione. Il tasso di ospedalizzazione fortunatamente è basso, noi abbiamo otto ricoverati e mi si dice nessuno in situazioni gravi. Quindi al momento è da escludere ulteriori provvedimenti restrittivi. Quello che invece si può e si deve fare per il ruolo del Sindaco ma anche per la sensibilità comune di ciascuno di noi è quello di esortare le persone ad attenersi alle norme di prevenzione che sono state dettate dalle autorità sanitarie. Quindi il distanziamento, l'obbligo di mascherina, l'igienizzazione delle mani e anche un invito perché viene dalla comunità scientifica mondiale che è quella di sottoporsi alla vaccinazione, soprattutto per chi finora non si è vaccinato. Sul Mona c'è tra l'altro un centro vaccinale, funziona? Quindi l'invito è proprio questo? Sul Mona ha un hub vaccinale che è perfettamente funzionante, che ormai funziona da molti mesi e dove ogni giorno si alternano degli operatori sanitari e dei volontari che stanno veramente in modo incomiabile portando avanti un'attività. Sì, io mi permetto di esortare le persone a recarsi al hub vaccinale e sottoporsi alla vaccinazione. Carmine, le domande sarebbero anche altre, ma so che i tempi del Tg impongono di andare avanti con la scaletta, per cui se tu non hai altre domande da studio noi ti restituiamo la linea Grazie, ci rimettiamo al tuo speciale delle 20.05, Anna, in cui avremo ulteriori approfondimenti.